ciao a tutti i tarta amici di tarta distruttivi questo video doveva uscire a pasqua come vedete dalle uova tutti intorno a me quindi vi faccio gli auguri anche se in ritardo spero che abbiate passato una buona pasqua e una buona pasquetta visto che qui al sud c'è stata una bella giornata penso che un buon aperto niente abbiamo realizzato questo video con la mia ospite speciale lady che all'epoca si chiamava bebe bebe poi ha cambiato nick name per questo mi sentirete chiamarla bebe nel video però adesso si chiama lady vi lascio nell'info box di suo nuovo canale e al più presto riprende la vita detto questo vi invito sempre a seguirmi sui miei social che vedete qui sopra vi invito sempre vale sempre la cosa di iscritto di cambia scrivetevi sotto iscritto da vostro canale che dirvi seguite la lady sul suo canale attivata la campanellina per non perdere neanche un video mando un grosso bacio a lady e sono sicuro sta guardando questo video spero vorrei scusarmi se uscito in ritardo ma ci sono stati dei problemi tecnici di montaggio tecnico tattici avrebbe detto mister in tempo e vabbè bando le ciance e ciance alle bando e vi lascio al video buona visione non cazzo ecco mai bebe bebe non mi ricordo mai bebe bebe e oggi siamo qui per scartare le uova di pasqua insieme scarteremo le uova attorno io ne ora scartare due perché le due di mia madre mi ha già scartate poi ti faccio vedere che ha trovato inizia tu va scarta il primo uovo tu allora il mio è paul di grandi firme la 210 grammi e si possono trovare all'interno non so se farvi vedere bene allora caffè noir che sarebbe una busta a porta occhiali che comunque torna utile poi c'è il blister questo qui che sarebbe un bracciano giro collo con charm e elefante molto carino e camomilla c'è lo specchio a forma di cuore quindi vediamo cosa trovarlo comunque il cioccolato è superiore al latte è giusto dirlo beh dietro c'è questo per chi potrebbe interessare e questi sono i macchi che potremmo andare a trovare allora eccolo qui lo spago è andato eccolo qui eccolo qui ora lo apro vabbè il solito non viene il nome come dire coppettina ah si è aperto tutto si lo sto tovorro diciamo ha un lume tecnico che poi non ricordo eccolo qui e lo apro con voi cosa ho trovato? ho trovato il bliss questo è il sacchettino ah bello bello ah le tondro la cosa da collano ci sono anche un po' di brillantini sinceramente ma è veramente pieni di brillantini manaccia ma un po' un po' di difficoltà eccolo qui ok ho trovato questo si vabbè praticamente è multiuso eccolo qui è un po' piccolino carino è molto carino l'acchettino l'acchettino lo preferivo più nero che marrone però va bene così ok ok allora vedo il tuo bauli e rilancio con il mio bauli grandi firme qua si possono trovare borse contapassi tondoli e una bobonice questa è ancora la mezzo chilo però lo uscito dallo scartaggio e lo spago e sarà il contapassi blu anche il mio colore preferito bello bello è anche funzionante ha anche un orologio dice 3,25 pomeridiane devi già regolare non resisto no no mando un po' il gioccolato no mi puoi toccarti di nuovo ti stavo togliendo il tuorno maestro tocca a te no io non ne ho più solo la bauli ah scusami allora io ho anche questo della Juve che è la mia squadra del cuore quello ufficiale della balocco andiamo il collarino ovviamente sono tutti sorpresi firmati in Juve che era prendiamo l'altro strozza come si è andata ecco facciamo un buco qui ah cos'è cos'è l'accetto portacellulare della Juventus con il marchio nuovo ce l'avevo con il marchio vecchio questo è anche quello del marchio il 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 logo c'è quello con il logo vecchio della Juve era il logo nuovo sono sempre comodi questi che si mettono così bello bello poi poi lo fatti vedere mia madre nell'uovo che gli ho regalato io ho trovato questo come quello tuo la formina per i biscotti stai mangiando? bello poi quello della perugina ha trovato un altro uovo in questo uovo però c'era questo si vede bene? un bel ciodo si non è un bel ciodo non è un bel ciodo ma quanto c'è scritto qui è il nickel ok la canello sotto sto scaricando la battiglia al cellulare lo scartaggio è fatto vi auguro ancora una buona Pasqua buona Pasqua a tutti buona Pasqua a tutti la designer è tutto la bebe anche quindi la designer la bebe buona Pasqua a tutti voi eh? aperta aperta ma non mi chiedono la cosa alle persone vai vai guardate qui sotto voi delle uova perché siamo curiosi guardate c'è anche una foto che vi va e poi noi siamo sempre fortunati una foto veramente carina e ma niente buona Pasqua a tutti buona Pasqua e ci vediamo penso a martedì per il prossimo video bene per oggi è tutto a divederci al prossimo video ciao 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 ciao